siamo una squadra nuova con tanti che si affacciano per la prima volta al massimo campionato italiano quindi buone buonissime sensazioni anzi abbiamo credo che abbiamo fatto una gara alla pari con i campioni d'italia in carica e questo è buono era un buon test e se continuiamo così possiamo possiamo levarci delle soddisfazioni durante il campionato che poi è quello che conta davvero queste sono solo di preparazioni però se lo dobbiamo prendere come un test è sicuramente ma un punto di partenza molto positivo abbiamo lavorato tanto sul gruppo proprio per amalgamarlo come era giusto che fosse il blocco della serie a che ha vinto la serie a in maggior parte è stato confermato quasi tutto e c'è stato qualche messo nuovo tra cui me ma ci siamo amalgamati subito abbastanza bene per quanto riguarda il campo e sicuramente andrà meglio anche anche lì e si vedranno anche risultati in campo quando ci amalgamiamo ancora di più rispetto ad adesso San Donato è sicuramente una una squadra di elite di questo campionato l'anno scorso ha sfiorato i playoff hanno è tanto che sono in eccellenza e sanno sanno il livello e hanno lavorato anche quest'anno per per rimanere là noi andiamo là a fare la nostra partita e l'importante è che facciamo meglio di oggi se battiamo sempre un mattoncino in più un mattoncino in più e non torniamo indietro arriviamo alla stagione che siamo pronti per questo livello